Ciao ragazzi e bentornati al mio canale, io sono DragonGest e oggi 25 gennaio 2023 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nel negozio oggetti di Fortnite. In evidenza abbiamo il bundle doppio echo con ovviamente echo, scendiamo e abbiamo mortafiamma, comandante scarlatto, elite cremisi e poi macabre. E quindi nelle giornaliere abbiamo Jones scatenato in luci della ribalta e poi l'emota, passo di rock, piedonando e svolazzo. Scendiamo ragazzi, abbiamo ancora Nomi, Osaka e tutto il mondo Marvel ancora disponibile ragazzi, sino ad arrivare giù ai bundle della Epic con il pacchetto in carichi strane trasmissioni che io vi consiglio di prendere il prima possibile, io ancora non l'ho preso ma ovviamente lo farò. Benissimo ragazzi, io ritorno all'inizio e vedete tutto nel dettaglio, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condite il video con gli amici e lasciate un mega mi piace. Andiamo subito a vedere il bundle doppio echo, quindi con la bellissima echo, più stili selezionabili, il predefinito, inverso, echo spettrale e quindi echo prismatico. È come se avessimo quattro skin ragazzi, bello bello bello. Dorso decorativo, vero riflesso, stili selezionabili, il predefinito, inverso, fluido e quindi espressivo. Torniamo indietro ragazzi ancora una volta, questo bundle per voi ragazzi è di 1900 V-Bug. Andiamo a vedere quindi che si può prendere echo da sola a 1200, lame dell'inversione a 500, echo jet ad 800 ed echo la copertura a 300. Ragazzi, bellissima, vi posso assicurare che in game è stupenda. Poi abbiamo morta fiamma, da me già in possesso ragazzi, bello bello bello. 2000 V-Bug per questa skin leggendaria, con più stili selezionabili, il predefinito e lo spettro. E poi abbiamo ancora il dorso decorativo, pietra incatenata anche qui, con più stili selezionabili, il predefinito e lo spettro. Bellissimo ragazzi, la sua prima apparizione nella stagione 6 fa parte del set selvaggio West. E' il suo strumento di raccolta, frammento oscuro, con più stili selezionabili, lo stile predefinito e il frammento spettrale. 1200 V-Bug ragazzi, per completare il set di morta fiamma. Comandante Scarlatto, costume non comune del capitolo 2, stagione 2 del set. Fuoco notturno, con più stili selezionabili, il predefinito, lo scuro e quindi tigre. 800 V-Bug ragazzi, ce la mettiamo nell'armadietto, bella, 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 Elite Cremisi. La controparte maschile, il set fuoco notturno, la prima apparizione nel capitolo 2 della stagione 2. 800 V-Bug ragazzi, ce lo portiamo a casa. Grimoira, il costume epico del capitolo 2, stagione 4, fa parte del set Grimoira. Eccolo qui, con più stili selezionabili, il predefinito ed il cappuccio, con il cappuccio ovviamente. Il colore Grimoira è bianco, ossa stupenda questa ragazzi, bellissima secondo me. Il suo nostro decorativo, Oloteschio ragazzi. 1500 V-Bug ragazzi, ce la mettiamo all'interno del nostro armadietto. Bellissima, assalto dimenticato. 800 V-Bug per andare a completare il set Grimoira, capitolo 2, stagione 4. Scendiamo e abbiamo il bellissimo, secondo me particolarissimo, Bundle Woman segnato. Il bellissimo Macabre. Questa skin animata dove le anime dei nemici caduti appaiono sulla nostra skin. Ragazzi, sul nostro costume. Stupendo. E poi abbiamo il suo dorso decorativo Glumbo. Anche qui è reattivo ragazzi, alle uccisioni. Stupendo. Lo strumento di raccolta Graffitascia. E quindi il deltaplano con la goccia e la copertura Macabrini. E quindi la schermata di caricamento, amici, di penna e d'inchiostro. 2300 V-Bug ragazzi, per questo Bundle. Macabre da solo lo possiamo prendere a 1500. Graffitascia da solo ad 800. Con la goccia del deltaplano ad 800. E Macabrini la copertura a 500 V-Bug ragazzi. Stupendo. Nelle giornaliere abbiamo Jones scatenato. 800 V-Bug ragazzi, ci portiamo a casa. Jones scatenato dal set Collisione del capitolo 3. Stagione 3 come prima. Apparizione. Luci della ribalta bellissima. Non usciva da un po' di tempo. Stagione 10. Eccola qui con più stili selezionabili. Lo stile predefinito e il succo. Il suo dorso decorativo spicchio anche qui con più stili selezionabili. Il predefinito e il succo. 1200 V-Bug ragazzi, ce la portiamo a casa. Stupenda. Taglio netto. Lo strumento di raccolta non comune della stagione 7. Fa parte del set Mercenario. Moderno. 500 V-Bug ragazzi. Ed è nostro. Eccolo qui. Stupendo. Appasso di rock. 500 V-Bug ed è nostra. Svolazzo. 500 V-Bug. La emote del stagione 2. Ed è nostra. Piedonando. 200 V-Bug ragazzi. E ce la mettiamo all'interno del nostro armadietto. Capitolo 2. Stagione 2. Torniamo indietro ragazzi. E qui abbiamo finito praticamente tutto il bundle di oggi. Come vi avevo detto prima. Qui è ancora disponibile tutto il mondo Marvel. Che avevamo già visto precedentemente. Lo trovate all'interno del mio canale. Siamo scesi quindi giù ai bundle delle offerte speciali della Epic. Io da qui posso ritornare di nuovo in lobby. E vi posso salutare come sempre. Dicendovi. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Condividete il video con tantissimi dei vostri amici. E lasciate un mega mi piace. Ci vediamo al prossimo video. E ciao 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 ciao.